Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi buon 2019! Buon anno a tutti! Primo, primissimo video di quest'anno ragazzi! Non poteva che racchiudere in sé i migliori leaks che vedrete per i prossimi giorni di Fortnite ragazzi! Davvero un augurio di cuore a voi e a tutte le vostre famiglie per un 2019 che possa essere ricco di felicità e prosperità per tutti voi ragazzi! Il Papa sembri! Diamo avanti ragazzi e parliamo appunto dei leaks e degli argomenti di oggi, il nuovo quartiere ragazzi! Da pochi giorni, da poche ore è presente quella mini tilted tower nella sezione del quartiere, oggi vedremo già cosa la sostituirà! Parleremo anche e vedremo un bel gameplay di un tour completo delle celle sotto al castello di ghiaccio ragazzi! Incredibile! Primo in assoluto a quel che ne so! E ovviamente non mancheranno alcuni leaks qua e là interessanti riguardanti appunto quello che vi aspetta nei prossimi giorni! Ma prima ragazzi, ah vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella che chi non attiva la campanella al primo dell'anno non si sa! Ma ragazzi la domanda, la domanda importantissima, ve la faccio subito! Qual è il tuo ricordo più bello del 2018 su Fortnite? Il mio personalmente è l'uscita dello Skull Trooper, non ci credevo e invece è stato così, hanno fatto riuscire lo Skull Trooper, è una delle mie skin preferite, quindi il mio ricordo più bello è il momento in cui l'ho visto nello shop mentre lo stavo ovviamente registrando per voi! Ma quindi ragazzi, ciao Giorgio Le Mande e bando alle ciance, andiamo subito subito a vedere i nuovi Creepy Quarters! Si chiameranno i quartieri spaventosi e alle mie spalle ragazzi una meravigliosa, a parer mia veramente stupenda ricreazione della Mystery Mansion! Quindi una specie di fabbrica abbandonata che in realtà ragazzi è stata preparata proprio per essere utilizzata nel... Oh eh stai lì fermo buono non timore che fra poco facciamo vedere! Come se sto parlando con l'altro schermo! Non è finita ragazzi, non è finita perché c'è un'altra immagine meravigliosa! Questa invece è la Mystery Mansion proprio in sé, quindi proprio l'edificio principale visto dall'interno! Guardate ragazzi che figata vedere tutti gli oggetti sparsi in giro così e sospesi nel vuoto soprattutto! E andiamo avanti con un'altra immagine che è quella del Garage and Storage! Quindi, miglia c'è una pronuncia in inglese, quella dei garage e dei magazzini, dei depositi che hanno creato! Voglio ragazzi però farvi vedere il trailer ufficiale che secondo me merita davvero tanto! Sono blueprintato am Prezzese cheassero pensare le cliente! E 왜 le? Guardate! Sono pension ISSI! Guardate! 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 Guardate batteries! davvero davvero tanta roba ragazzi spero davvero di vederla prestissimo nel nostro quartiere perché merita un sacco a me personalmente piace tantissimo ma ragazzi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti ma ragazzi andiamo avanti e parliamo del consumabile alcuni l'avranno sicuramente già visto per chi non l'avesse visto ve lo spiego velocemente trovate nel file di gioco le carotine ragazzi non sappiamo però sappiamo che è un consumabile perché se andiamo a vedere nella proprio nel data mining quindi nei file di gioco vediamo che sotto i forage items che sono praticamente gli oggetti che si possono consumare consumabili sarebbe proprio la parola tradotta in italiano e questa carotina qua ragazzi stai lì te che ne parliamo dopo ma guarda un po che cosa succede la carottina ragazzi non si sa ragazzi non si sa a che cosa possa servire c'è chi diceva dava 5 di salute e 5 di shield io sinceramente ve la faccio vedere staremo ovviamente a vedere quando arriverà nel nostro battle royale vi è scappata l'immagine eccola qua ragazzi un'altra roba basugosa del video di oggi ragazzi le uova le uova le uova le uova quelle che sono presenti e che oramai avete visto tutti anche nei miei precedenti video e ovviamente poi in tutta la community di fortnite che sono nascoste sotto al castello di ghiaccio uova ragazzi che sappiamo avere al loro interno guardate bene anche questa immagine lo noterete quella roba lì quella quella roba lì quello lì ragazzi è un draghetto sembrerebbe o un draghetto o un draghetto nel senso non è che c'è altro voglio però ragazzi farvi vedere il primo spezzone del gameplay di un gameplay ufficiale trovato da un utente che è riuscito a scendere nella parte di castello che ancora non è stata visitata guardate un po ragazzi di un'altra roba lì Grazie a tutti. 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 E poi quando a me non te lo aspetti ti pianta dentro la skin che tu non ti aspetti e dici porca migliacca ho bruciato i V-Bucks per l'altro va che ne compro ancora. Quindi ottima strategia di marketing. Va bene ragazzi io direi che per oggi ve ne ho veramente cantate un bel po'. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!